Ciao, qui Danilo Marucca di Diritto alla Meta.it e in questo video vado a rispondere ad una domanda che è arrivata via mail, però arrivano domande simili molte volte sia via mail che nei commenti dei video su YouTube. In pratica la domanda poi cambia forma, però è più o meno questa. Sono disperato? Dammi un metodo per cambiare velocemente. Allora, partiamo dal dire che nel 99% dei casi, se oggi sei disperato, a prescindere da quale età hai, se sei disperato è perché segui la massa, cioè ti comporti e pensi come i tuoi coetanei o come la maggior parte delle persone. Il punto è che se tu agisci o pensi come la maggior parte delle persone non puoi ottenere dei risultati diversi. Adesso, devi considerare che la maggior parte delle persone non ha una direzione, non ha obiettivi. Quindi, se tu non ti comporti in maniera diversa, farai esattamente come tutti gli altri, cioè ti muoverai in tante direzioni, però alla fine non raggiungerai nulla di concreto. Esiste una vera e propria regola che afferma ciò che fanno gli altri è sbagliato. Punto. Non c'è nient'altro da aggiungere. Se la maggior parte delle persone fa una cosa, nel 99% dei casi è sbagliata. Il fatto che la maggior parte delle persone si comporta in un certo modo o pensa una certa cosa, vuol dire che nel 99% dei casi è sbagliata. Qualche giorno fa stavo leggendo una statistica che riportava il fatto che in Italia i life coach hanno un'età media compresa tra i 46 e i 49 anni. Io, ad esempio, attualmente ne ho 26, quindi sono 20 anni avanti rispetto alla media nazionale in questo settore. Ma per essere 20 anni avanti vuol dire che devi ragionare in maniera diversa e devi fare cose diverse. Io non ragiono come ragionano i miei coetanei. Quando i miei coetanei sono a fumare, io sono a studiare. Quando i miei coetanei sono in discoteca, io sono a lavorare. Qualunque cosa fanno, io sto facendo qualcosa di diverso. Questo è l'unico motivo per cui mi posso trovare 20 anni avanti, ok? Quindi se tu vuoi raggiungere determinati obiettivi, devi fare ciò che gli altri non vogliono fare. Quando gli altri sono in discoteca, tu devi allenarti. Quando gli altri sono a mare, tu devi leggere dei libri. Quando gli altri sono in montagna, tu vai a mare. Qualunque cosa stia facendo la massa, tu devi comportarti in maniera diversa. La maggior parte delle persone dice io voglio raggiungere quell'obiettivo e poi che cosa fa? Passa la giornata a guardare Maria De Filippi. Tutto è rispetto per Maria De Filippi, ma se tu passi la giornata davanti alla tv, non diventerai mai nessuno. Quello che devi capire è che il tuo tempo è limitato. Un terzo del nostro tempo, di tutta la nostra vita, lo passiamo dormendo. Se togli tutte le ore che una persona passa nella sua vita al lavoro, se togli le ore che una persona passa ad aspettare il treno, il tram che fa la fila alla posta, oppure togli il tempo che una persona passa nel letto ma senza addormentarsi, praticamente se ne va quasi tutta la vita. Restano solo poche ore, quelle poche ore le devi sfruttare nel migliore dei modi. Non puoi passare la giornata andando al mare oppure guardando Maria De Filippi o l'Isola dei Famosi. Per carità puoi impiegare il tuo tempo come meglio credi, però non raggiungerai mai determinati obiettivi. Quando tu hai un obiettivo tutto il tuo tempo e le tue risorse devono essere dirette nel raggiungimento di questo obiettivo. Punto e basta. È così che funziona. Tutto il resto deve essere escluso. Se hai degli amici che sono dei falliti, che praticamente passa nel tempo a non fare nulla, non puoi uscire con loro se hai determinati obiettivi, perché o ti impegni per raggiungere il tuo obiettivo oppure passi del tempo con loro. Dipende tu che persona vuoi diventare. Vuoi diventare un fallito? Esci con loro. Non vuoi diventare un fallito? Gli scrivi Danilo mi ha detto che non posso più uscire con voi. Ok? Quindi poniti degli obiettivi e impegnati per raggiungerli, perché la maggior parte delle persone non ha capito una cosa, e cioè che il guardare la televisione, il passare del tempo a mare, il prendersi del tempo così per non fare nulla, lo può fare solo chi ha prodotto determinati risultati, non prima. Se hai creato un'azienda che fattura milioni e sta cambiando la vita a migliaia di persone, allora sì che puoi prenderti una giornata, due giornate, una settimana per guardare un telefilm su Netflix, ma se non hai prodotto nessun risultato e sei disperato, non puoi passare il tempo guardando un film su Netflix, non ne hai il diritto. Perciò prima ti impegni e produci dei risultati e poi fai quello che vuoi, e non il contrario, cioè hai preso come stile di vita il non fare niente. Ok? Devi utilizzare il tuo tempo nel migliore dei modi e lo devi utilizzare per diventare la miglior versione di te stesso possibile ed aiutare gli altri a fare lo stesso. È così che funziona. Un'altra cosa che bisogna considerare è il fatto che prima che tu raggiunga ciò che vuoi, vivrai il suo opposto. Quindi prima che tu raggiungi un obiettivo, ti trovi nella situazione in cui sembra che praticamente non c'è nulla da fare. Prima di avere le idee chiare su cosa fare, vivrai un periodo di totali dubbi. Prima di essere coraggioso, vivrai dei periodi di paura. Quindi poco prima che tu raggiungi il tuo obiettivo, vivrai esattamente il suo opposto. Ma in questa situazione tu devi gestire te stesso e andare avanti, capire che qualunque cosa è temporanea e passa. La tua disperazione può essere utilizzata come motivazione, può essere utilizzata in mille modi produttivi, ma è certo che passerà. È come una nuvola, arriva e se ne va. La stessa cosa accade per le emozioni, arrivano e se ne vanno. È importante però esprimerle e non reprimerle. Quando sei arrabbiato devi arrabbiarti, quando sei triste devi essere triste, ok? Quindi se tu sei disperato non c'è nulla di sbagliato, ma devi utilizzare questa disperazione a tuo vantaggio, perché può darti una leva motivazionale molto forte che devi utilizzare a tuo favore. Quindi prendi questa disperazione e usala per allenarti di più, per studiare di più, per leggere di più, per fare tutto ciò che è in tuo potere fare per raggiungere i tuoi obiettivi. Perché se tu sprechi questa tua disperazione, non utilizzando la tua vantaggio, semplicemente hai perso una grande opportunità. Un'altra cosa che devi capire è che qualunque cosa desideri è un risultato di un determinato modo di agire e di pensare. Avere un fisico definito, per esempio, vuol dire aver passato molti anni ad impegnarsi totalmente nell'allenamento, vuol dire essere molto disciplinati a livello alimentare, mangiare in maniera sana, l'aver eliminato determinati cibi, vuol dire totale disciplina, sudore, sacrificio, impegno. È chiaro che poi ottieni quel risultato, cioè un fisico definito, ma quello è un risultato. Tu devi partire da quali azioni e quali abitudini puoi implementare oggi per uscire dalla disperazione e diventare la persona che tu davvero vuoi diventare. Quindi devi prendere qual è il risultato che vuoi ottenere, valutare quali modi di pensare, quali modi di agire, quali abitudini servono per produrre quel risultato e cercare di applicarli già da oggi, anche se non ti senti pronto, anche se non sei abbastanza preparato, però cercare oggi di iniziare a pensare, parlare e agire come se tu già fossi la persona che vuoi diventare. Bene, per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo! Ciao!